Speranza del Paradiso. Figlia mia, umanamente parlando, ognuno che lavora ha diritto alla sua ricompensa. L'operaio, come ogni cittadino che presta il suo servizio per la comunità, ha diritto alla sua retribuzione. Anche Gesù parlò sovente nelle sue parabole, della giusta paga per coloro che erano chiamati a lavorare nella vigna. Il cristiano deve agire guidato dall'amore di Dio e del prossimo, ma deve anche aspirare al Paradiso come sua eterna e infinita ricompensa. Disprezzare la paga che Dio riserva a coloro che lavorano nella sua vigna è segno di ingratitudine. Ecco perché il vivere solo per le cose di quaggiù e attaccarsi ai beni che passano è grande stoltezza. La speranza del Paradiso non deve essere il solo motivo che sprona ad operare onestamente, così come il figlio non si comporta bene solo in vista del premio, ma deve servire come stimolo a compiere meglio quelle opere che saranno da Dio premiate. Ecco che allora ti posso dire, non temere coloro che possono privarti di ciò che materialmente possiedi, ma temi chi ti può far perdere il diritto alla ricompensa eterna, cioè al Paradiso. Diceva Gesù che vale guadagnare tutti i beni del mondo se poi si perde l'anima. Lavora per accumulare nei granai eterni tesori che né la tignola né il tarlo possono distruggere.